Ha fatto discutere e fa discutere la pista di patinaggio in Piazza Verdi. L'opinione pubblica spezzina si è divisa come accade peraltro su molte altre questioni. Ci sono i favorevoli e i contrari alla scelta della piazza. Chi esprime dubbi e giudizi critici rileva la pericolosità di questa collocazione vicina, troppo vicina, alle due strade che fiancheggiano alla piazza e che sono percorse dai mezzi pubblici. Ma le perplessità sono anche di ordine estetico. Le guide che accompagnano i turisti la presentano e la fanno ammirare come una piazza d'arte aperta sul palazzo dei futuristi e noi che facciamo? Ci piazziamo al centro una pista di patinaggio. Il sindaco ha risposto alle critiche invitando ad ascoltare le risate che arrivano dall'impianto. Ma quelle risate sarebbero riecheggiate in qualsiasi altro luogo avessero piazzato la pista di patinaggio? Io penso che Parachini farebbe bene invece a non banalizzare le reazioni dei cittadini che chiedono venga preservata la bellezza in tutte le sue manifestazioni. Il sindaco che ha tenuto per sé la delega alla cultura ma che non ha un gran rapporto con la sovrintendenza alle belle arti è orgoglioso e con piena ragione devo dire del recupero delle storiche mura della città che sta realizzando con la sua amministrazione. La memoria storica, l'arte e la cultura sono fattori importanti anche per attrarre visitatori e turisti e non solo per riempire di valori lo spirito di appartenenza della comunità spezzina. E sono anche ingredienti fondamentali per destagionalizzare il turismo che è uno degli obiettivi dell'assessore a ramo l'onorevole Maria Grazia Fria. Genova con i suoi musei e le sue mostre, in testa a tutte c'è quella di Rubens a Palazzo Ducale, nel ponte dell'Immacolata ha fatto il pieno di visitatori. Gli alberghi erano pieni al 70% ed esauriti tutti i bed e break faste dalla città. Non solo, per i fine settimana e le festività natalizie, d'ora in avanti, le prenotazioni garantiscono massicce presenze nel capoluogo ligure. Certo, la Spezia non è Genova, noi non abbiamo l'acquario nel porto antico che calamita migliaia di visitatori al giorno, in ogni mese dell'anno, e non abbiamo i situti in grado di sponsorizzare una mostra come quella dedicata al pittore Fiammingo. Possiamo però valorizzare meglio il patrimonio artistico di cui disponiamo e che non è poca cosa. Basta pensare al Museo Navale, che non ha uguali nel nostro paese e che senza alcun particolare incentivo richiama ogni anno almeno 30.000 visitatori. Noi non solo non lo promuoviamo come meriterebbe, ma ne paventiamo addirittura la chiusura per mancanza di personale. Per questo la proposta di trovargli una sede diversa da quella dell'assenale merita una riflessione. Affinché la destagionalizzazione del turismo possa svilupparsi su solide basi, è necessaria anche una politica culturale più dinamica e creativa. Servono mostre capaci di intercettare il pubblico colto che gira l'Italia e frequenta i festival e le grandi rassegne, e servono convegne e manifestazioni di livello nazionale. Non sempre sono necessari grandi budget per organizzare eventi importanti che richiamino interesse da fuori città. Sono sufficienti buone idee e un'efficace, un'efficiente macchina organizzativa. E quando affioriscono buone idee, di solito, arrivano anche gli sponsor. Una grande opportunità per consolidare la vocazione del turismo favorita dal boom delle Cinque Terre è il Waterfront a Calatapaita, che entro il prossimo anno sarà restituita interamente dal porto alla città. Le scelte che si faranno lì potranno essere determinanti per il futuro di Spezia.